Wella ragazzi ciao a tutti le nicchie bentornati qua su Far Cry 6 Allora come sempre sto registrando mentre che mi trovi live su Twitch Se vi va in descrizione c'è il mio canale Twitch e anche un link per comprare questo e tanti altri giochi scondati Allora oggi si va a fare questa missione con danno a morte Dobbiamo andare a vendicare Carlos, il papà di Espada Mi pare anche una bella idea anche perchè l'ultima volta ci siamo rimasti fregati Miguel che ci ha traditi e così via Allora mappa dove qui viaggio rapido funge funziona funziona Però mo c'ho l'arma quella che non è silenziata e mi pare pure un fucile a pompa quasi quasi l'arma della volta scorsa Arsenale ma st'arma non me soddisfa Meglio è meglio quella silenziata va mi aiuta di più al momento Allora dove che devo andare E vabbè devo andare a parlare con Espada No 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 mo mo sono dalla Espada Eh ci credo Non preoccupare le ciuole Vado Mi devo fare un chilometro Un chilometro abbondante Mappa Far Cry mi sa che è un gioco bello lungo Ci gioco si da un pochino Pigliamo un elicottero se è possibile Messia voglia Andiamo Uè piccolino com'è Pigliamo un elicottero Ma perché tanto in sto gioco e gli elicotteri servono a poco Perché tanto alla fine Quando vado a sparare agli aerei Tipo gli faccio il solletico Ma dettagli Oh me fai salì Cioè me funzioni Porca miseria Allora Cerco di ricordarmi come si usa l'elicottero Ok già capito Bengala Shift Razzi Ok Ok Andiamo a Beh mo dipende se non c'è la contraerea Ma se non c'è Andiamo ad ammazzare tre tenenti Tre nulla facenti Allora vediamo se non c'è una copertura antiaerea qua Eh ma ha rotto i cavoli però Dai fammi vedere la mappa Ok Ok Ho fatto fuori la contraerea E il cosino là Ho fatto fuori Favamo gli a capicchi comanda raga Favamo gli a capicchi comanda qua Uh cascano pure gli alberi Porca miseria quello tira bombe Te lo sta un po' attento Oh spara Chi cacchio è che urla così St'elicottero è proprio inquidabile comunque Ah giusto per dire St'elicottero fa proprio cacà Completamente io non capisco come se Cioè è difficilissimo Fatemi vedere Fatemi vedere se avete il coraggio Porca miseria questo mi tira pure il granato Ok Atterraggio 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 Mi serve Mi serve per andar via di qua Speriamo che non me lo fregano Più che altro Atterraggio 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 Se ne stanno andando I vigliacchi fuggono Tanto c'ho l'elicottero io No 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 That's for Carlos Fucker But remember who won't you use Espada One down But the others aren't here Motherfuckers Check inside the hotel See if you can pick up their trails I need them in the ground Danny All of them Ok devo trovare delle tracce 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 una mappa stracce tra non trova niente sotto vediamo non è qua devo trovare gli altri due tenenti c'è che indizzi nell'hotel dove 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 oh via 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 devo trovare la stanza giusta sarà questo ok bene a curviare il fervorismo a volte che un po so di sasso ok apriamo l'elicottero e andiamo a trovare i nostri simpaticissimi amici anche perché a me sa che sta arrivando un elicottero vabbè buttiamolo giù va che è meglio via meglio buttarlo giù perché non mi va che me segue ok 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 ma non uccidere civili eh boh cavac ho sbagliato leggermente i calcoli problemi 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 c'è mancava pure mancava pure l'aereo lì ah ma dai vabbè va ucciso dal mio elicottero le eliche ma te ne rendi conto ma te ne rendi conto ma si può morire così mori non rompe il carzio dai ma pure l'elicottero deve arrivare no 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 ma pare facile non vedo nessuno ma un cane ma fangolo mori i cani sto gioco c'hanno più vita degli umani qua c'è una bomba è in modo che ha chiuso trovo sto tizio oh lì c'è uno è lui no tu mi fai cagassotto eh e vabbè quanta vita c'ha quello che è l'incredibile rusca papà che cacchio oh ca bomba e poteva non arrivare l'elicottero a rompermi il car si avrà non rompere le scate le mori ma quanta vita c'ha questo tutto buono wow 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 Porca di quella! Muoviti!!! Che devo fanno? 1300 metri. Eh, mo vanno a trovare. L'elicottero è qua. Battuto! Arriva un cavallo. Grazie per avermi portato il cavallo. Mi serviva. Andiamo cavallino, andiamo, andiamo cavallino! Vabbè va, lascia... Poglio la macchina che è meglio. Allora va. Eh, mi metti sotto ciccio! E scendi, che c'ho da fare? No, guarda qui, ora. Sono un re di suono, ok? Ma vado una fangu. Via, via, scoppola! Allora dove che devo andare? Là! Arrivato il sonno! Eh, uh, uh... Ok, mo... Che due scatole. Pare quasi che non c'è anima viva, ma so bene che non è così. Shit! Special forces. Forze speciali? Allora... 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 c'è mancato poco morto non ho sbagliato leggermente lei ha ragione signore io ho sbagliato proprio leggermente colpa mia lei ha ragionissimo ma sai che messa anche che mi hanno beccato a me sa perché vedo un occhio di movimento vedo andava da ammazzare l'amico mio non rompe le scatole quello mancava pure doggy c'è mancava pure sto cacchio di cani del calcio non rompe le scatole muori me ne vado me ne vado bellezza prego prego va bene come operazione completata meglio di così un posto di blocco questo mi pare poi non c'ho voglia di fare il buono io so cattivo devo ammazzare i cattivi tutti gli allarmi sono disattivati tu 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 l'ingegnere scuote tenendo alfonso al fò amore al fò alla mo mi pare che devo distruggere sto cartellino bene ok un posto di blocco nostro va bene a me non è una rottura di scatole in futuro vediamo un po cosa c'è di bello qua dentro ora posso entrare la chiave per fare che non si sa questo posto è il nostro per sicuro questo posto è nostro e poi abbiamo fatto capire chi comanda qua allora missione successiva che dovrei fare ce n'è un botto rieducazione rieducazione potrei fare c'è un viaggio rapido vero manomale rieducazione mamma mia quanti ma ancora ne devo fare un botto mi pare di ste missioni qua no perché mi pare che devo convincere tutti quanti a unirsi qui alla lotta che cacchio ne so io vabbè che problema c'è italiana palos is finding a way of yara is priority number one he wants to run while we got real problems i heard our friend matias is locked up in marquesa's true yaren academy he's a doctor but they took his fucking license for helping us out it's like it's a crime to help anyone who's not a true yaren and now they're going to fry his brain till he's dry humping castillo i would know they tried that brainwashing shit on me palos won't risk saving matias until the heat dies down but you're up for it right certo te vado a salvare l'amico dottore qual è il problema matias is a fucking saint c'è un posto di controllo più avanti e non è mio vero che a miseria e che palle questi posti di blocco si 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 la tolgo la tolgo la tolgo la tolgo ascoltami oh che cacchio è l'ho tolta l'arma non vedi che so disarmato sono un essere buono io io so buonissimo come il pane andiamo a disattivare l'allarme va dove è andato trovatelo davanti a te sono scemonito allora prima faccio fare l'allarme l'allarme è una rottura di scatolini ok modo cacchio è il cartello che io manco lo vedo sarà quello allora qui c'è scena della camera no l'ho fatta fuori mi sa che ce n'è un altro ma non lo vedo ma dov'è ma dov'è ma dov'è non lo vedo ma dov'è non lo vedo questo mi ha quasi visto e sono sicuro che mi ha visto qualcun altro e non ho fatto fuori la cosa giusta porcaccia da miseria ok trovo banale che per pigliare il posto di blocco devi togliere il cartello sinceramente è un po' banale ha molto senso quando liberi il posto dai soldati no il cartello è un po' una scocciatura vabbè almeno almeno mosto posticino è mio mi pareva che già non so qua fuori a rompere ancora oh ma io quasi oddio ho quasi finito i proiettili però è bella sta moto trovo un punto di ritiro che te la conservi sì beh io sono quasi arrivati al punto della missione più che punto di ritiro vabbè però sono tanto che il tempo è volato via concludiamo questo gameplay e poi andiamo avanti nel prossimo allora per chi guarda su youtube finisce qua questo gameplay spero che vi sia piaciuto mi raccomando commentate iscrivetevi lasciato un bel pollicione in su vi ricordo di passare a trovarmi in live su twitch ho trovato in descrizione il link e anche un link per comprare questi e tanti altri giochi scontati i miei social e così via insomma date un'occhiata giù in descrizione vi saluto ciao alla prossima ciao